Ammette almeno di aver avuto rapporti sessuali con il Braibanti? Sì. Chi cominciò nel rapporto sessuale? Non ricordo. Non ricordo! Non ricordo! Avanti! Non ricordo! Si sforzi! Nacque spontaneamente! Non è vero! Il test sta mentendo! E periti ha dichiarato che il primo a cominciare è stato il Braibanti! Non è vero! Si trattò di una cosa... Di una cosa? Di una cosa istintiva! Istintiva! Sì, istintiva! I nostri rapporti sessuali erano conseguenza di... Conseguenza di? Di emozioni! Costrizioni! Emozioni! Emozioni comuni! Io accettavo... Che cosa accettava? Io accettavo i rapporti... I rapporti sessuali! Sì! Perché accettava i rapporti sessuali, signor San Fratello? Perché? Perché li accettava! Perché? Perché era obbligato! Avanti! Su! Ce lo dica! E si liberi! Finalmente! Perché accettava i rapporti omosessuali? Perché mi interessavano? CheCo me racettava i rapporti! Cheia lo dupendbooare!